L'occasione dell'incontro tra il Papa e il personale dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza che lavora in Vaticano è stato lo scambio di auguri di inizio anno e il settantesimo del loro servizio. Rivolgendo un saluto, Francesco ha ricordato anche Alessandro, un agente scomparso da poco. All'orizzonte vediamo ombre e pericoli che preoccupano l'umanità, ha detto il Papa. Come cristiani siamo chiamati a non perderci d'animo e a non scoraggiarci. La nostra speranza poggia su una roccia incrollabile, l'amore di Dio. Alla luce di questa salda speranza il Pontefice ha evidenziato come il lavoro degli agenti che ama in causa valori umani e cristiani. Da qui l'invito a custodire e sorvegliare luoghi che hanno grandissima importanza per la fede e la vita di milioni di pellegrini che proprio in loro trovano ogni giorno aiuto, presenza e premura. Siamo tutti chiamati ad essere custodi del nostro prossimo soggiunto il Papa. Il Signore ci chiederà conto della responsabilità a noi affidata, del bene o del male che avremo compiuto nei confronti del nostro prossimo. Grazie a tutti.